Diplink, interviste e approfondimenti con Torino Cultura Un minuto dopo le 14, buongiorno, buon pomeriggio alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori ben ritrovati quindi all'ascolto di Radio 110 e in particolare all'ascolto di Diplink il format di approfondimento culturale di Torino Cultura Allora, dicevo prima e ho avuto il permesso di dirlo che questa puntata di Diplink segna anche un piccolo compleanno diciamo che l'anno scorso questo format era stato inaugurato con l'intervista alla nostra ospite di oggi che è Isabella Lagattola, buongiorno Isabella Buongiorno Cinzia che l'anno scorso venne a parlarci del Festival delle Colline Torinesi di cui è direttrice insieme a Sergio Ariotti e sono contenta di festeggiare questo piccolo compleanno del format Diplink è solo il primo anno, spegniamo solo la prima candelina invece in una concomitanza importante per il Festival delle Colline Torinesi Torino Creazione Contemporanea che invece quest'anno compie 20 anni 20 anni davvero, mamma mia che passano in fretta che passano molto molto in fretta sì, perché in effetti il Festival nasce nel 1996 e l'avevamo anche detto l'anno scorso in realtà riprendiamo molti argomenti della puntata dell'anno scorso che era stata comunque profetica in qualche modo avevamo toccato degli argomenti che quest'anno vengono approfonditi e quindi dicevamo un festival che era nato in collina che è sceso in città ma che comunque non ha mai perso mi pare e adesso Isabella ce lo confermerà la sua voglia di sperimentare di presentare la scena di teatro più così più la punta più avanzata ecco del teatro contemporaneo e quindi parleremo di questo e poi anche però mi viene subito da dire che effetto fa a spegnere 20 candeline un effetto pazzesco perché quando abbiamo cominciato ovviamente non pensavamo minimamente di raggiungere ci eravamo dati un traguardo di 5 in 5 quinta edizione, decima edizione quindicesima, ventesima mi sembra davvero un compleanno importante poi il festival è un festival indipendente quindi ha una piccola struttura a maggior ragione siamo molto orgogliosi un po' spaventati ma molto orgogliosi di questo compleanno di questo compleanno sì, 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 fa un po' paura ma insomma perché di acqua ne è passata tanta, tanta poi quest'anno abbiamo giocato molto su XX sì, sì che 20 sì, avete giocato su quello perché ne parliamo è anche XX è anche il segno del cromosoma della femmina del mammifero e i vostri progetti triennali che sono una novità di quest'anno di questo nuovo corso il vostro progetto triennale il primo progetto parlerà di donne si incentrerà soprattutto sulla sui personaggi femminili e sulle protagoniste femminili del teatro contemporaneo italiano e non solo ecco partiamo allora da qui sono cambiate tante cose cambia anche il titolo diciamo nel senso che le colline torinesi vanno restano solo spondo vanno un po' all'indietro ma sono cambiate perché in realtà il festival è cambiato seguendo anche un po' l'evoluzione del gusto del pubblico l'evoluzione del teatro i primi anni erano anni sperimentali in collina con gli attori che venivano con noi nei giardini nelle ville nei castelli ed era molto bello ed era bellissimo era bellissimo suggestivo a parte le zanzare a parte la pioggia che sono state due con cause tremende poi però a un certo punto verso la decima edizione il festival è un po' sceso in città è andato sulla tramvia verso Pelga è andato sui battelli sul Po e soprattutto il teatro contemporaneo è cambiato si è evoluto ed è andato verso forme più performative o comunque più legate al mondo visivo all'audio al video alla musica e aveva bisogno di spazi archiusi in questo in più il festival crescendo aveva attirato delle sinergie una fra tutte quella col teatro stabile per cui è stato naturale chiedere l'uso degli spazi teatrali però noi abbiamo sempre mantenuto insieme a questi spazi cittadini un avamposto collinare quest'anno per una serie di ragioni Pecetto che era il nostro avamposto collinare il paese delle ciliegie festeggia i cento anni delle ciliegie e quindi per un anno non abbiamo potuto occupare la chiesa che è occupata da mostro e da ciliegie questo ha generato tristezza in tutti gli artisti perché c'è sempre la lotta per andare su e mangiare le ciliegie perché a Pecetto c'è un sindaco meraviglioso che porta le ciliegie tutti i giorni la cavagna esatto però abbiamo sospeso solo per un anno in realtà ci siamo un po' dedicati a una edizione importante per festeggiarla in modo concreto e corretto in tutti gli spazi torinesi ma due spazi non sono teatrali questo bisogna dirlo due spazi non sono teatrali possiamo magari dirlo subito uno l'ex lutrario esatto esatto questa è una new entry bellissima l'erroir musicale l'ex lutrario dove Buscaglione andava a suonare il suo pianoforte rosa e sarà sede di uno spettacolo che si ispira proprio a Fred Buscaglione infatti e infatti allora io quasi quasi con un po' di anticipo perché sono solo le 14.06 manderei subito questo brano abbiamo abbiamo citato Criminal Tango di Fred Buscaglione e lo ascoltiamo e poi magari diciamo ancora qualcosa sullo spettacolo Criminal Tango di Fred Buscaglione questo è un pretesto per parlare dell'omonimo spettacolo della compagnia Fanny Alexander che dicevamo mette in scena questo spettacolo dedicato a Fred Buscaglione proprio dove appunto dove lui si esibiva dove lui si esibiva infatti noi siamo andati Sergio Dio quest'inverno a vedere la sala che è meravigliosa è rimasta come era uguale dell'architetto Carlo Mollino dell'architetto Mollino e noi lasceremo tutto com'è non faremo nessun tipo di allestimento per cui ci sarà Marco Cavalcoli e tre musicisti e la gente seduta sui divani e sui sofà che ci sono sulle poltrone e il bar aperto assolutamente proprio come si fa nei music hall quindi se uno vuole alzarsi e andare a bere io trovo bellissimo questo finalmente che non si sta obbligati al buio nelle poltrone ma ci si può muovere e quindi questo farà proprio rivivere l'atmosfera delle performance delle esibizioni di Buscaglione il nostro così originale comunque resta proprio sui generis come artista tutto questo accadrà giovedì alle 11 alle 21.30 ma anche venerdì 12 alle 19.30 per chi fosse interessato a vedere come viene rivisitata questa figura da una compagnia che comunque ha iniziato un percorso tra l'altro dicevamo fa parte di una serie di discorsi dedicati a temi d'attualità quindi noi li abbiamo già avuti tutti discorso giallo discorso grigio discorso celeste questo discorso verde in realtà dedicato all'economia scopriremo perché Buscaglione forse per le macchine per i soldi che bruciava potrebbe essere un pretesto può darlo sper però e beh siccome debutta da noi lo scopriremo solo vedendolo bisogna andarlo a vedere bene bene invece prima parlavamo appunto dei progetti treannali che è un po' una novità mi è parso di capire tra le righe del comunicato stampa anche per poter andare avanti visto che i tempi sono un po' duri per la cultura in Italia e per il teatro in particolare questi progetti triennali sono ministeriali quindi vi consentono esatto il ministero ha indetto questo nuovo bando su tre anni in cui noi abbiamo deciso di lavorare sulle figure femminili declinandole ovviamente anno per anno con una diversa accezione quest'anno diciamo che è più dedicato alle donne come espressione della contemporaneità nel progetto il prossimo anno avrà una valenza sociale e politica e il terzo anno etico-religiosa e su questo assembliamo gli spettacoli tra l'altro il ministero forse ha deciso ieri sera forse sta decidendo sui festival per cui c'è anche un po' di ansia però certo lavorare su un triennio vuol dire che se il ministero decide di passarci in questo triennio per tre anni noi abbiamo garantito un contributo che in tempi di taglia la cultura è tantissimo e sulla cifra che ci danno al di sotto non andremo mai per cui uno sa di poter contare almeno su quella parte certo e questo penso che sia molto importante per la programmazione per i contatti perché voglio dire per chi programma un festival è importante sapere di potercela fare l'anno successivo assolutamente e soprattutto per i rapporti internazionali ecco perché all'estero sono abituati a lavorare all'estero lavorano sul triennio noi sappiamo già quali spettacoli stranieri faremo il prossimo anno io lo dico molto serenamente poi speriamo di riuscire a farli ma perché abbiamo già avuto due proposte una soprattutto molto interessante che ho cercato in Estremis di portare a Torino quest'anno ma non ce l'ho fatta e che aprirà il festival il prossimo anno però certo loro sono abituati così ce l'hanno già alla tournée fino a giugno e quindi noi siamo l'apertura mi hanno detto siamo l'apertura del festival speriamo una compagnia greca bene bene ecco mi allaccio a questa ultima battuta compagnia greca la Grecia è presente con tutta la drammaticità della situazione economica di cui tutti sappiamo con uno spettacolo che che mi sembra molto interessante molto come dire interrogante ecco credo che interrogerà molto il pubblico e parla mette in scena quattro quattro pensionate greche adesso stavo cercando qui ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni abbiamo i titoli bellissimi di quest'anno i titoli sono evocativi ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni tra l'altro si sembra proprio di sentire non lo so a volte anche qualche persona anziana che magari ci è vicina che non voglio darvi preoccupazioni è un classico e qui l'argomento è drammatico qui l'argomento è drammatico perché la storia di quattro pensionate greche che decidono di sparire cioè di morire perché dicono magari con i nostri soldi qualcun altro potrà vivere e quindi è un tema di non solo strettissima attualità di adesso proprio non solo in Grecia dappertutto tra l'altro l'autore Marcaris è stato al salone del libro io l'ho intravisto ma Sergio l'ha conosciuto e lui gli ha detto che lo spettacolo è bellissimo l'ha già visto è uno spettacolo che gioca anche però sul filo sottile dell'ironia la compagnia De Florian Tagliarini a tutti i suoi spettacoli giocano su questo e quindi sì ti interroppo se così non fosse sarebbe veramente no sarebbe drammatico infatti è un'ipotesi drammatica in realtà risolta con molta ironia con molta intelligenza però è una cosa che fa riflettere cioè dicono morendo noi qualcun altro avrà dei soldi in più e quindi perché non sparire in fondo noi la nostra vita l'abbiamo fatta che è terribile ma che avviene qualche volta sì purtroppo è successo è successo mi viene da introdurre quindi un argomento di cui volevo parlare dopo ma va bene anche adesso perché questo è anche il rapporto tra le generazioni allora qui si tratta anche di dire forse in questo spettacolo comunque bisogna che a un certo punto ci si faccia da parte cioè allora qui è portato all'estremo qui è portato all'estremo però è chiaro però è chiaro che a un certo momento qualcuno deve anche lasciare il passo a chi arriva a chi sta arrivando che è quello che si sta cercando di fare anche in Italia perché c'è un attaccamento anche di poi insomma geriatrico anche a certi posti a certe poltroni a certi ruoli che forse ci hanno anche hanno un po' bloccato società come come le nostre soprattutto le società del sud Europa perché poi forse non è un caso che le società che soffrono di più economicamente sono quelle in cui le persone anziane non lasciano spazio spazio ai più giovani ai giovani e questo è questo un argomento che rientra rientra ho visto in diversi diversi spettacoli 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 si diciamo che anche in un altro che è Testament del collettivo berlinese Shishi Pop è anche lì portato un po' all'estremo perché Testament è la rivisitazione del relire in cui ci sono in scena le tre attrici con i loro veri padri che non sono attori che sono per signori settantenni infatti è in data unica perché loro più di una non ne fanno di recita in cui loro portano le loro eredità alle figlie c'è per esempio un momento in cui io l'ho visto in Svizzera lo scorso autunno un padre porta un disco e dice questi sono i dischi che io sentivo alla tua età e lo mette e fa sentire la sua musica alla figlia ed è bellissimo e tenerissimo questo rapporto generazionale padri figlie nel secondo spettacolo della compagnia berlinese invece sono le madri che non sono presenti di persona ma in video ci sono tre video con le tre madri che interloquiscono con le figlie mentre loro sono in casa e fanno i lavori di casa parlano con le figlie e lasciano i loro consigli alle figlie alle figlie e diciamo sì qui è un passaggio di testimone tra madre e figlie anche un punto di vista come dire anche di genere forse il riconoscimento forse anche di una genealogia femminile che comunque forse si trasmette con qualche trauma di meno ma chissà oppure sì molti di più questo è difficile dirlo la presenza delle shishipop al festival rientra nell'ambito della manifestazione Torino incontra Berlino che comunque dall'inizio dell'anno sta un po' accompagnando connotando la città bello infatti sì penso che sarà molto interessante ovviamente uno spettacolo in lingua originale sì con i sottotitoli assolutamente sì 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 quindi sono già stati tradotti quindi abbiamo già c'è tutto un lavoro sotto i sottotitoli certo vengono tradotti proiettati adattati perché a volte il testo completo è troppo lungo e quindi il pubblico poi non riesce a vedere lo spettacolo c'è un lavoro a cui io tengo tantissimo sui sottotitoli perché bisogna sempre alleggerire molto in modo che sia comprensibile tutto ma che la gente possa anche vedere lo spettacolo non sia distratta dai scritti troppo distratta certo è vero che è anche bello sentire gli spettacoli in lingua originale perché il suono sì sì di una lingua è comunque bello anche se qualcuno magari trova il tedesco una lingua un po' dura ma non è così quello che si sente in teatro è un suono molto molto musicale e a proposito di suoni musicali e a proposito di questo spettacolo che si ispira direttamente alla Sagra della Primavera di Stravinsky anticiperei l'ascolto che avevamo previsto un po' più avanti lo facciamo adesso se in regia siamo pronti sì lo siamo allora ascoltiamo qualche minuto dalla Sagra della Primavera di Stravinsky e questa era la Sagra della Primavera di Igor Stravinsky qualche qualche minuto di ascolto perché come dicevamo diciamo il secondo spettacolo che le Shishi Pop gruppo collettivo teatrale berlinese portano al Festival delle Colline Torinesi si ispira a quest'idea del sacrificio della fanciulla sì insomma il sacrificio proprio della vita insomma e quindi e si ispira a quest'opera a celeberri ha un titolo impronunciabile Fulings Hopfer sì vittima della primavera sì 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 e dunque ma ma di rapporto genitori figli che era che invece è presente soprattutto nel nel primo spettacolo che portano in scena le attrici berlinesi diciamo di rapporto genitori figli si occupano anche due protagonisti assoluti del teatro italiano contemporaneo che sono Gabriele Vacis e Antonio Latella loro nell'ambito lavoreranno nell'ambito proprio di un focus di creazione italiana contemporanea che voi realizzate insieme al teatro stabile per il secondo anno ecco e che che rapporti genitori figli allora nello spettacolo di Gabriele sono sei attrici due italiane e altre dell'est europeo che indagano il loro rapporto con i padri che hanno tutte un conto in sospeso con i loro padri che raccontano alle altre quale è stata la loro difficoltà con i padri poi sappiamo che Gabriele è bravissimo a mescolare le lingue mescolare i tipi di recitazione e quindi sarà una recitazione corale corale assolutamente come sempre come nella sua e Gabriele tra l'altro ritorna al festival dopo diversi anni sì è vero sì perché aveva fatto una regia nei primi anni di festival negli anni collinari ma la ventesima edizione è anche un'occasione per dei ritorni perché ce ne sono più di uno sì quindi oltre a quello di Gabriele Vacci beh per esempio Marco Bagliani che era venuto solo una volta in collina e che debutta in prima assoluta con uno spettacolo ispirato alla prima guerra mondiale anzi sul tema della trincia esattamente nel centenario nel centenario quindi molti spettacoli rientrano comunque in qualche ricorrenza infatti il 2015 è un anno veramente è un anno di ricorrenza noi festeggiando rifesteggiamo sì 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 e poi Antonio Latella e poi Antonio Latella che è un altro ritorno perché no Antonio in realtà torna quasi tutti gli anni al festival da quando avevamo iniziato il ciclo di Medea poi i ritratti di Amleto l'anno scorso le Rosselle o Ara di Via Colvinto cinque parti di Rossella quest'anno è un nuovo percorso dedicato a una importantissima donna Susanna Colussi che è la madre di Pierpaolo Pasolini importantissima madre madre esatto figura di madre che ha segnato la vita di Pasolini chi ha visto il film di Abel Ferrara può ricordare un'Adriana Asti strepitosa nel fare la madre una presenza anche silenziosa ma che ha segnato tantissimo la breve vita di Pasolini e Antonio che è un pasolignano ma anche noi lo siamo un po' inizia qui questo percorso con Candi Danieri che era una delle tre Rosselle Oara dello scorso anno premio Ubu quindi attrice giovane molto brava e vedremo perché hanno iniziato le prove tutti stanno provando gli spettacoli che debuttano e quindi abbiamo aggiornamenti ogni tre o quattro giorni ci chiamano e ci dicono perfetto va benissimo devo realizzare ancora una cosa e poi sono pronto è anche bello questo il rapporto con gli artisti che lavorando ci tengono al corrente del loro lavoro perché per capire io ma anche i nostri ascoltatori gli artisti arrivano ovviamente con spettacoli sì a volte magari sono prime assolute o prime nazionali o spettacoli già collaudati però comunque ogni spazio è diverso ogni spettacolo certo si adatta poi allo spazio che trova quindi è un po' questo il lavoro che fanno anche le compagnie che arrivano assolutamente sì quelli che hanno gli spettacoli che hanno già debuttato arrivano magari un giorno o due prima chi deve debuttare magari anche tre perché deve riadattare ma l'abbiamo appena visto con gli argentini con Federico Leon avevano fatto il loro spettacolo a Bruxelles appena debuttato in uno spazio molto piccolo noi eravamo il secondo debutto europeo e sono arrivate alla casa teatro i ragazzi hanno detto no è troppo grande troppo grande allora abbiamo dovuto togliere i posti laterali e avvicinare era su un tavolo da ping pong avvicinare il tavolo alla prima fila e mettere il pubblico molto contro perché loro volevano una situazione molto intima ma noi non avevamo questo spazio così intimo da propogli e quindi già si erano preoccupate sulle piante hanno lavorato due giorni freneticamente per ridurre tutto al minimo e di fatto lo spettacolo era bellissimo ci sono riusciti però certo c'è tutto un lavoro tecnico artistico organizzativo dietro che poi non appare più di tanto che appare sono gli artisti che si esibiscono e che ha il suo fascino comunque perché il teatro è anche quello hai parlato hai citato la casa del teatro ragazzi mi pare che sia una new entry come sede o mi sbaglio hai perfettamente ragione quest'anno l'abbiamo soprattutto dedicata agli spettacoli internazionali perché abbiamo pensato che noi abbiamo una sede operativa lì ormai da nove anni abbiamo pensato che in realtà avere gli artisti internazionali che hanno più bisogno di essere rassicurati magari hanno anche problemi dove noi abbiamo il nostro ufficio e quindi loro possono venire in ufficio a chiederci delle cose è molto più carino come accoglienza non è molto più non avevamo considerato però che gli artisti internazionali entrano in ufficio continuamente a chiedere caffè per cui la nostra dotazione di cialde di caffè è finita miseramente però alla casa del teatro ragazzi c'è una caffetteria c'è una caffetteria molto carina però negli orari notturni mattinieri avevamo questo via vai diciamo un caffessito abbiamo avuto questa perché poi dietro le quinte è molto divertente per noi però è vero che accoglierli in un teatro molto bello come casa teatro ragazzi una struttura così bella bella molto e dove noi abbiamo la nostra sede quindi essendo lì presenti per qualunque esigenza è un modo anche per accompagnarli che è un verbo che noi usiamo tanto in modo affettuoso in modo più familiare fra virgolette che è tanto importante perché poi il teatro è fatto da persone e quindi che hanno bisogno di sentirsi a proprio agio per potersi esibire è come così sulla carta sembra ed anche da come lo racconti sembra un'esperienza che continuerà perché l'idea appunto di accogliere gli artisti che vengono da fuori è interessante di farli sentire un po' così casa e bottega esatto lavorano ma hanno anche un conforto poi andavano in caffetteria a mangiare una cosa poi tornavano è stato tutto perfetto benissimo facciamo un'altra pausa musicale che poi ci consentirà di parlare di un altro spettacolo ascoltiamo dal Mahbet ascoltiamo Anna Netrebko e Simon Kingslide questo è un altro nome difficilissimo da Kinleyside sono diretti da Paolo Carignani l'orchestra e il coro sono quelli di Stato di Baviera ascoltiamolo era la scena finale del secondo atto del Mahbet di Giuseppe Verdi perché lo abbiamo ascoltato lo chiedo subito a Isabella Ragattola perché perché proprio questa sera debutta al teatro Astra Mahbet su Mahbet su Mahbet è uno studio per la mano sinistra questo è il titolo completo una elaborazione di Chiara Guida della società S.Raffaello Sanzio dal Mahbet di Shakespeare soprattutto incentrata su Lady Mahbet su Lady Mahbet e quindi qui l'argomento è quello delle donne e potere questa è una donna settata di potere disposta forse più del marito ma molto di più infatti è lei che sollecita che lo istiga ad ammazzare è lei che vuole il potere a tutti i costi è lei che si lava la mano rossa di sangue è proprio l'emblema della donna pazza per il potere assetata di potere che è una figura anche un po' inusuale non tanto forse in queste grandi nel teatro classico nelle tragedie c'è sicuramente anche questa figura però diciamo noi nella nostra contemporaneità non viviamo per fortuna non viviamo il potere rimane una cosa che soprattutto declinato così le donne tendenzialmente lasciano magari sono complici però proprio non si sporcano le mani infatti lasciano che siano gli uomini un po' come dire andare avanti in questo caso no perché le attrici sono tre donne con Chiara Guidi lavorano tra l'altro come sempre negli spettacoli di Chiara Guidi sulla voce sulla musica e poi c'è un violoncellista quindi musica dal vivo quindi ci si può aspettare da Chiara Guidi che la musica poi sia quella del violoncello e quella delle parole esattamente infatti in una specie di partitura esattamente sempre parlando di donne e potere c'è un'altra donna che verrà comunque messa in scena questa volta da Ermanna Montanari parliamo di una leader importante Aung San Suu Kyi e qui qui invece il potere al femminile viene declinato in un modo che a noi è più comunque più vicino più congeniale e poi lo spettacolo Ermanna ha come un'identificazione totale con lei Ermanna è esile bruna con i capelli lunghi in fila ai sandali birmani è abbigliata un po' alla birmana perché per fare questo spettacolo Ermanna Montanari e Marco Martinelli sono partiti e sono andati in Birmania del teatro delle Albe sono andati in Birmania a trovarla hanno parlato con lei noi avremo anche un messaggio suo da leggere e hanno vissuto in Birmania anche delle situazioni difficili lo spettacolo racconta i suoi anni di segregazione che sono stati lunghi sono stati lunghissimi 21 anni a volte anche con toni un po' grotteschi per esempio la figura del potente governatore è evocata in modo un po' grottesco ridicolo ma giustamente è uno spettacolo che ha molti video e che ha delle immagini bellissime e con un'attrice straordinaria come Ermanna anche lei che fa un lavoro sulla voce che è molto particolare anche Ermanda esattamente tant'è che due anni fa o tre anni fa il festival aprì con uno spettacolo di Chiara Guida e d'Ermanda Montanari insieme insieme è vero ora lo ricordo e ti ricordi sì comunque un modo affascinante di viaggiare nell'universo della voce che spesso fanno anche gli attori maschi però forse è più prerogativa femminile poi loro sono accomunate dall'appartenenza a una regione che è l'Emilia Romagna quella che viene chiamata ormai da tutti i dettagli la Romagna Felix sì perché dunque ricordiamolo Chiara Guidi con la società Sraffaello Sanzio Ermanna Montanari e Martinelli con il Teatro delle Albe ma mi pare anche Fanny Alexander assolutamente sarà che un festival come Sant'Arcangelo dei teatri probabilmente sì infatti ha dato ha dato il là e ha aiutato a crescere ma anche un teatro come Emilia Romagna teatro che è molto attento al lavoro delle compagnie locali e le ha molto incoraggiate insomma è molto importante perché poi evidentemente c'è una vitalità già naturale in Romagna sì sì sarà il clima il mare le piadine le piadine tutto fa sì sì mi vengono in mente anche c'è un festival di burattini c'è un festival di burattini molto importante infatti una regione teatralmente direi la prima in Italia perché poi da lì per quanto riguarda il teatro contemporaneo sono arrivate le forme più innovative le più importanti al momento poi hanno tante giovani compagnie anche i meno 20 che erano venuti anche da noi sono di lì ma lo stesso Antonio Lattella adesso ha sede a Forlì quindi si è romaniatizzato in qualche modo e poi adesso Antonio è il direttore della scuola di teatro del teatro dell'Emilia Armagna teatro da poco nominato teatro nazionale dal ministero e dirige lui la scuola di teatro quindi c'è anche stato un riconoscimento e mi viene da dire appunto che auguriamoci che anche un festival come Torino Creazione Contemporanea Festival delle Cognite Torinesi possa comunque dare la stessa spinta ecco abbiamo tante realtà anche sul nostro territorio noi quest'anno in particolare seguiamo due giovani compagnie una in Maniaci d'Amore che in realtà seguiamo da qualche anno che però è impegnata in un progetto speciale un laboratorio con gli allievi del corso di A acting del college di acting della Holden su Kafka su Kafka e Ives Klein quindi blu Kafka dovremmo tutti vestirci di blu quel giorno questo sappiamo sì perché saremo tutti blu per un giorno ma anche gli spettatori e tutti bisognerebbe che tutti venissero con qualcosa di blu così lo diciamo così lo diciamo la seconda invece è il mulino di Amleto che è una compagnia giovane ma già abbastanza affermata che rientra nel progetto Torino incontra Berlino perché fa un testo uno dei più importanti testi di Bertolt Brecht che è Mahagoni loro lo rivisitano e quindi è diventato Mahagoni la parabola di una società post-capitalistica loro lo fanno in prima nazionale al festival e danno anche vinto il premio per le giovani compagnie e scena lo sbando della compagnia di San Paolo quindi che è una realtà che aiuta le giovani tantissimo questo è importante è molto importante è molto importante seguire e dare delle opportunità noi abbiamo sempre cercato di farlo anche appunto con le compagnie che avevano meno opportunità a Torino e con dei debutti che magari possono essere l'inizio di un percorso che si spera lungo insomma sì sì un festival di teatro ma insomma così come un festival di cinema ha questo come dire ha questo scopo assolutamente di presentare la vetrina di quello che c'è sul momento ma di presentare non solo artisti già affermati ma anche di dare spazio a chi a chi sta crescendo a chi inizia assolutamente è importantissimo questo è un po' di nuovo il discorso delle generazioni esattamente se non ci si fa un po' da parte per i giovani è un po' complicato c'è ancora uno spettacolo che rientra in Torino incontra Berlino sì che è Villa Dolorosa di Rebecca Krickeldorf che è una autrice contemporanea tedesca fa parte del progetto Fabula Mundi è un progetto europeo cui noi abbiamo già aderiamo da qualche anno e questo è una riscrittura delle tre sorelle di Chekhov ambientate però nella Germania ad oggi quindi c'è una festa di compleanno in cui tutti si ubriacano va a finire malissimo come nelle tre sorelle c'è una festa di compleanno che finisce male è un po' un mondo in parallelo ma è un mondo assolutamente contemporaneo anche questo debutta da noi ed è in prova a Milano in questi giorni il regista Roberto Rustioni che invece è per la prima volta al festival noi ci conosciamo da tanti anni ma è anche bella qualche new entry al festival sicuramente perché se no c'è anche il rischio di dire vabbè però fate sempre gli stessi li conosciamo i velici e forti che sono tutti tante volte va bene però li conosciamo invece andare a recuperare altre compagnie è sempre sì sì certo dalla completezza proprio del panorama esatto che è quello che noi vogliamo fare che è giusto che un festival serio si propone di fare forse abbiamo ancora tempo per fare un brevissimo ascolto dunque ascoltiamo la scena della lettera del giro di vite di Benjamin Britten e poi vi diciamo perché era una parte della scena della lettera del giro di vite di Benjamin Britten interpretato in una inconsueta edizione italiana dal soprano Silvia Martinelli abbiamo mandato in onda questo brano perché su questa sulla figura della di Miss Giddens che è il personaggio la protagonista del giro di vite Walter Malosti propone qualche cosa al festival quest'anno propone un primo movimento in questo caso di un nuovo spettacolo interpretato da Irene Valdi Walter è un veterano del festival ma è anche fondatore del festival con noi quindi il festival è una parte della sua attività Irene invece è la prima volta che recita il festival e siamo particolarmente contenti e questo spettacolo avrà una messa in scena particolare al teatro Gobetti perché lei sarà in mezzo al pubblico proprio a creare questo rapporto fra mondo reale e mondo dei fantasmi che è uno dei temi che ogni tanto tornano negli spettacoli realtà a finzione sarà proprio in mezzo al pubblico quindi sarà fatto per un piccolo pubblico l'abbiamo ripetuto due volte al giorno per quello ed è un altro debutto al festival in prova in questi giorni questo argomento realtà e finzione dicevamo proprio all'inizio nel primo fuori onda ha caratterizzato i primi spettacoli quelli che abbiamo appena visto sì M&M con Roberta Bosetti ma anche la Sideas di Federico Leon quindi insomma un altro abbiamo individuato tre fili conduttori fondamentali quest'anno abbiamo ancora da citare un altro spettacolo libanese se non sbaglio biografia interpretato da Lina Sanè che ha cambiato da poco nome d'arte quindi credo si dica Mai Dalanie o Maj Dalanie lo sapremo quando lei arriverà sì perché ed è lei ha ripreso dunque io ho visto questo spettacolo credo dieci anni fa in uno studio in cui lei aveva è una cosa curiosissima una specie di installazione in cui lei aveva la testa in un vecchio televisore e i piedi in una bacinella d'acqua a simulare la creazione di una persona e quindi la partenza dall'acqua all'arrivo alla televisione ma anche un mondo un po' dissociato adesso lo schermo televisivo è stato superato da uno schermo di un computer dai disegni preparatori che abbiamo visto lo sta per fare lo fa pochi giorni prima di arrivare da noi per la prima volta di nuovo a Lausanna al teatro VD che è un nostro nuovo partner internazionale da cui siamo andati a vedere proprio le shi shi pop e con cui condividiamo questa avventura con Lina ed è bello che ci sia un artista libanese come Lina perché il segno che connota la ventesima edizione è opera di una donna libanese ho messo tutti i posti gialli però posso far vedere lo stesso il mio così si vede il segno questo segno fiore esplosione esatto fiore esplosione movimento che Zena e Khalil ha voluto regalarci perché lo sottolineo che il segno d'artista viene sempre regalato dagli artisti al festival e per un anno per un'edizione connota e questo mi sembra particolarmente significativo sì decisamente ed è bella quest'idea appunto del fiore che esplode insomma è il festival che nel suo ventesimo anno si trasforma in qualcosa beh speriamo infatti era quello che volevamo dunque il tempo stringe dobbiamo salutarci io volevo ricordare però che il festival delle colline torinesi non è solo teatro è anche cinema libri incontri con gli artisti e tutto questo comunque i nostri ascoltatori lo troveranno sul sito lo trovano sul sito esattamente sì ci sono incontri con gli artisti dopo gli spettacoli presentazioni di film presentazioni di libri ma sul sito festivaldelecolline.it c'è tutto anche tutti i tipi di biglietti di abbonamenti perché poi il festival è fatto per il pubblico certo e il festival dura fino al 20 giugno 20 giorni 20 spettacoli 20 anni 20 giorni 20 spettacoli tutto quadra bene io ringrazio tantissimo Isabella Lagattola per essere stata qui con noi grazie a voi di avermi invitato abbiamo festeggiato due compleanni due compleanni quello di deep link è quello ben più importante di Torino creazione contemporanea lo chiameremo così dall'anno prossimo lo chiamiamo così Torino creazione contemporanea perché di fatto siamo più a Torino però festival delle colline torinesi poi noi siamo conosciuti da tutti come le colline le colline e quindi anche se non siamo in collina le colline rimane rimangono grazie ancora Isabella grazie a voi io ringrazio anche l'Iseo Greco in regia ringrazio i nostri ascoltatori per averci seguito ricordo che sui siti 110.unito.it e sui nostri social network quindi facebook twitter e anche sul canale youtube troverete a breve il podcast e il video di questa trasmissione seguite anche in piemonte in torino.it e non perdetevi la prossima puntata di Deep Link ciao Deep Link interviste e approfondimenti con Torino Cultura iscriviti al nostro canale a cura di QTSS